Ciao a tutti da Maurizio, benvenuti su Recensito, che come potete ben vedere oggi non è ospite nella redazione di Moto.it, ma siamo qui da solo caschi in via Pietro Colletta 9 a Milano. Perché? Perché possiamo vedere da vicino in anteprima una novità 2019, ma facciamo prima un piccolo passo indietro, ovvero quando parliamo di caschi di alto livello, molto curati, ricercati, uno dei nomi più altisonanti, qual è sicuramente Arai, lo diciamo senza paura di smentita. E oggi qua con noi abbiamo Profile V, che sostituisce sostanzialmente l'Access 3. Cosa c'è da dire di questo casco? Intanto è un prodotto pensato per chi magari veniva trattenuto dall'acquisto da un prezzo superiore ai 500 euro, perché Arai il primo prezzo d'ingresso era appunto superiore ai 500 euro. E allora questo è sicuramente un casco che è stato pensato appunto per invogliare chi non ha mai posseduto una Arai, ma vuole appunto provarlo, conoscerlo e sicuramente poi ne apprezzerà la qualità, spendendo appunto meno di 500 euro. Ricordiamo intanto una cosa, per produrre un casco come questo pensate ci vogliono circa 18-19 ore di produzione, questo a testimonianza della cura e della maniacalità nell'assemblarlo e nel costruirlo. Intanto ve lo mostro, lo faccio ruotare come sempre così ne potete apprezzare la forma e il design. A proposito di forma e di design, per certi versi è un po' la critica che viene mossa a Arai, ovvero una forma che è piuttosto classica, non ha mai conosciuto grandi cambiamenti apparentemente e soprattutto non ha delle grandi lavorazioni esterne. Ma perché? Perché per Arai è sempre stata una ricerca della sicurezza più che del design, ovvero prima viene la sicurezza e poi viene il design e ovviamente non ci sentiamo di contraddirli. Quindi abbiamo detto tre calotte esterne e le tre caratteristiche che deve avere per Arai la calotta esterna deve essere rotonda, liscia e resistente, quindi rappresenta bene tutto il lavoro che viene fatto nella fase di progettazione. Abbiamo tre calotte interne con quattro densità differenziate a seconda della zona del casco e ricordiamo che il Lus S3 invece che era il suo papà diciamo ne aveva tre, quindi tre densità differenti mentre qua cresciamo nonostante il prezzo rimanga sostanzialmente allineato, ma abbiamo quattro densità differenziate. A proposito di calotta facciamo un piccolo passo avanti e in questo caso ci aiuta, guardate qua, è davvero raro avere in mano la calotta esterna così nuda e cruda, ma grazie ad Arai e a Ben Racing l'abbiamo qua con noi, soltanto avendola in mano si può apprezzarne la resistenza, guardate anche se schiaccio con tantissima forza flette molto poco e possiamo notare un'altra cosa, ovvero la peripheral belt che è sostanzialmente una parte, questa parte più alta, la parte della nuca, che è stata irrigidita e sostanzialmente quello che vediamo anche qua, guardate quanto è dura, è impossibile fletterla e piegarla e questa parte è stata sia nei caschi auto che nei caschi moto è stata irrigidita perché ovviamente uno dei punti maggiormente pericolosi è il punto delle tempie. Per costruire questa calotta ci vogliono addirittura 20 pezzi diversi, 20 pezze che permettono di costruire l'esterno in fibra di questo profile V, viene comunque assemblata a mano e questa è sempre stata una caratteristica di Arai. Per quanto riguarda sempre la parte più esterna, la calotta, cosa notiamo anche? Notiamo ovviamente le prese d'aria, prese d'aria che sono pensate addirittura 11 e ne abbiamo 5 in ingresso e poi ne abbiamo 6 in estrazione perché come diciamo sempre, e questo vale anche per le giacche, ci vogliono le prese d'aria in entrata, parte più bassa, parte più alta, ma per forza di cose ci vogliono anche delle buone prese in estrazione perché altrimenti l'aria entra e sta all'interno e anzi aumenta la sensazione di calore. Poi non possiamo non parlare degli interni e spostiamo lo sguardo anche sulla calotta perché in questo caso calotte interni vanno a braccetto, la calotta nella parte più bassa è stata leggermente più aperta rispetto al passato, quindi abbiamo una buona buon ingresso, quindi una buona facilità di calzata, però i guanciali hanno comunque un ottimo spessore, ma dove? Nella parte più bassa, ovvero quando vado a calzarlo, comunque la sensazione di chiusura, che è sempre stata un po' la forza anche di Arai oltre a tutti gli altri aspetti, ho questa sensazione di perfetta calzata e quindi che il casco non tende né a muoversi, in caso ovviamente di caduta, ma neanche ad alta velocità, quindi rimane ben posizionato e molto stabile. Perché anche questo Arai ha sempre insistito molto, se vado a gonfiare i guanciali nella parte più alta, spinta, ovvero qua sostanzialmente, sì avrò una bella sensazione di spinta, però sostanzialmente rimane un po' fine a se stessa, devo andare a spingere dalla parte più bassa. E in questo quindi abbiamo quello che viene chiamato easy access, ovvero abbiamo guadagnato 5 mm di larghezza nella parte frontale e poi 5 mm per lato, quindi un po' più facile da inserire. Però adesso per parlare di interni, facilità di smontaggio, ma soprattutto anche di visiera, la persona giusta che ci può dare una mano in questo caso è sicuramente Simone. Eccolo Simone. Ciao Mauri, ciao, grande. Sì sì, tutto bene. Allora senti, stavamo raccontando appunto il Profile V, vorrei che ci illustrassi un po' come si possono smontare gli interni, il sottogola e poi anche la vera novità perché, dobbiamo ricordarlo, con il Profile V si è l'ultimo, sostanzialmente l'ultimo casco che guadagna il nuovo sistema di smontaggio visiera, in modo che tutte le visiere adesso sono tutte di Arai, sono tutte uguali, ma soprattutto sono anche facilmente smontabili, quindi non ci sono più paure o problemi. Quindi partiamo dagli interni, faccio vedere come si apre, come si smonta. Allora partiamo dal sottogola che è molto semplice, basta tirare verso l'esterno e si muove con facilità. Apriamo bene i due cinturini della chiusura, dalla parte posteriore, quindi la parte dietro delle orecchie, tiriamo verso l'interno l'imbottitura e con molta facilità. Stessa cosa vale anche dall'altra parte del guanciale, si parte sempre dal retro e il guanciale si sfila con molta facilità, mentre la calutina interna, come ti ho fatto vedere, è attaccata col velcro e si sfila molto più facilmente. Velocissima, perfetto, molto semplice. Mentre per rimuovere la visiera, che ha questo meccanismo che deriva dai caschi da Formula 1, per aprire adesso la visiera con questo clip di sicurezza che da alta velocità non si apre, basta tirare la levettina verso l'alto e far scorrere la visiera verso l'alto. Quindi sostanzialmente, aspetta, vediamo se ho capito bene, allora visiera aperta, chiudo e in questo caso non è bloccata, vado a bloccarla. Adesso si è bloccato, vado a sbloccarlo leggermente in modo che c'è un traffilaggio di aria e poi posso sollevarla e portarla verso l'alto. Voglio rimuovere la visiera, come faccio? Rispetto ai vecchi modelli, quindi i modelli precedenti, che era un pochino più complicato nel togliere la visiera, adesso è molto semplice. C'è questa levettina nera che la spingiamo verso l'interno e il meccanismo si apre. Per rimuovere la visiera invece bisogna alzare dove c'è questo gancetto ottone, basta alzarla leggermente, scusate mi appoggio e faccio meno fatica, si fa scorrere verso il basso la visiera, verso il pallino rosso e viene via. E si stacca con molta facilità. Semplicemente si apre la visiera per rimetterla, quindi la visiera è completamente aperta, si fa scorrere verso il basso e si rincastra. Davvero velocissimo. E poi vado a richiuderla. Sempre da visiera aperta. Ok. Inseriamo la sua placchetta e il suo supporto dalla parte alta e spingiamo completamente verso il basso. Perfetto. Sicuramente molto più intuitivo. Anche il vecchio sistema era facile però dovevi conoscerlo. Esatto, bisognava conoscerlo molto bene, avere un minimo di mestichezza. Una manualità un pochino più. Diciamo che sei stato chiaro. L'altra cosa che mi viene ovviamente da pensare e da vedere è il parasole. Parasole che in questo caso è optional. Arai è l'unica che ha deciso di non inserirlo tra la calotta esterna e la calotta interna, quindi che andrebbe ad asportare del polistirolo, quindi ha deciso di metterlo all'esterno. La critica o comunque la preoccupazione che hanno in tanti che crea della turbolenza, invece no. Loro garantiscono che fino a 170-180 non crea problemi. Costa 119 euro, però per chi vuole poi ci sono anche le visiere. Io adesso mi sa che ti saluto perché di visiere mi sa che parlo con qualcun altro. Aspetta un attimo che ti faccio sparire. Va bene. E allora adesso do il benvenuto a Rosa al nuovo acquisto di solo caschi che ci farà vedere le visiere. Ciao Rosa, eccola qua. Allora, visiere. Ne abbiamo di diversi tipi? Sì. Abbiamo visiere a specchio, chiare, fumè, 10 prezzi. Intanto, quelle che abbiamo qua davanti? Allora, queste qua sono a specchio e vengono 120 euro. Le chiare, le intermedie e le fumè a 89 euro. Perfetto, benissimo. Allora invece io ti dico un'altra cosa, ovvero che di serie, non so se lo sai perché sei appena arrivata e cogliamo l'occasione per dire che da solo caschi c'è anche una ragazza, una signora, signorina, ok? E così darà anche dei consigli al gentil sesso che verrà a cercare un casco. Ecco, dicevamo che il Profile V di Arai esce già di serie. All'interno della scatola troverete la lente Pinlock. Ma importante, lente Pinlock 120, quindi quella più grande, Max Vision, ma c'è anche un'altra novità, ovvero potrete ordinare anche la lente Pinlock fotocromatica che viene venduta a 55 euro. Quindi potrete montare la lente Pinlock sotto la vostra visiera chiara e poi cambierà di colore a seconda della luce. Ma a proposito di personalizzare, mi stavo dimenticando una cosa molto importante, anche il Profile V è personalizzabile negli interni, cosa importantissima quando si sceglie un casco, provatelo, se è della vostra taglia, ma potete prendere per esempio, come il sottoscritto, una calotta M ma con gli interni S. Questo è molto importante. Un'altra cosa interessante è che questo nuovo prodotto rispetto al suo predecessore pesa anche 70 grammi in meno, insomma 70 grammi sulla testa si sentono e quindi bisogna puntare ad avere un casco sicuro ma anche leggero. Abbiamo praticamente finito, però dobbiamo ricordare i prezzi, li ho studiati io, mi sono portato avanti. Allora il Profile V viene venduto a 479 euro, anzi i prezzi partono da 479 euro, poi saliamo a 489 euro per l'opaco e poi 589 euro per tutti gli altri colori di design un po' più particolari, sono davvero tanti. Il mio consiglio come sempre è quello di andare sul sito di Solo Caschi, sul sito di Bear Racing, l'importatore di Arai in Italia, dove troverete tutti i prodotti Arai, tutte le colorazioni sono davvero tantissime, sempre massima qualità sicurezza perché il casco ricordiamolo va approvato, quindi non comprate la scatola chiusa, venite in un negozio come loro dove vi danno anche qualche consiglio e quindi se non risparmiate 20 euro come potreste risparmiare su internet, però li guadagnate in conoscenza come dico sempre perché vi daranno un buon consiglio. Come sempre seguite i nostri canali social quindi Facebook, Instagram e il nostro canale YouTube. Ho finito, ciao da Maurizio e da Rosa, alla prossima puntata di Resensito. Ciao! Ciao!